Wow, state organizzando un weekend romantico? Sì, hanno stadio. Contente? Contentissime. Dai, partecipiamo anche noi al concorso Vinci lo Stadio con Team. Se vinciamo, vediamo la partita dal vivo. Grande questo concorso di Team. 40404, il nome della mia squadra di Serie A, invio l'SMS. Ho vinto! Di già! Sì, se vinci lo scopri subito. Dai, però adesso guardiamoci la partita, ragazzi. Invia anche...